Buonasera a tutti. Oggi è martedì 27 settembre 2022. Io sono Stefano Bargiacchi, prof.ste e vi do il benvenuto a questo webinar insieme a, lo vedete già inquadrato con me, Giovanni Borsi. Buonasera Giovanni, benvenuto. Buonasera a tutti, grazie per la partecipazione. Webinar attesissimo perché? Perché parliamo di aumenti di capitale e in particolare di quello di Banca Montepaschi, quindi anche qui grande attesa per questo aumento di capitale. Giovanni come sempre illustra, vabbè, espertissimo, inutile, non ha bisogno di presentazioni di trading, aumenti di capitale, investimenti, ma in particolare ogni aumento di capitale viene sempre commentato con un articolo seguitissimo che viene a smontare un po' tutto il prospetto informativo e a scoprirne i vari segreti. Oggi lo facciamo insieme e in diretta. Prima però vi faccio vedere velocissimamente il disclaimer, sempre importantissimo, che come diciamo ogni giorno a Market Briefing è un po' il contratto tra noi e voi, quello che ci consente di comprendere lo scopo didattico di questi spazi e di parlare qui di liberamente. Quindi prendete confidenza con il disclaimer, mi raccomando, importantissimo e quindi andiamo direttamente con la presentazione di oggi. Giovanni, a te, hai anche una presentazione, no? Sì, scusa, mi dice YouTube che devo attivarlo perché non lo sto vedendo per vedere domande. Prova a fare reload, magari dir del link perché il live è partito, anzi chiedo alle persone a casa che saluto. Se si vede, si sente correttamente, mettete un bel uno nella chat. Intanto saluto Claudio, Silvio, Stefano, Marco, Andrea, Emilio, Vasto, eccolo lì. Adesso lo metti in mute. Ecco, perfetto, io ho tirato anche YouTube, perfetto, così vedo anche... Anche da casa, esatto, potete fare le domande, ecco vedo tutti gli uno, quindi si vede, si sente correttamente, potete fare le domande direttamente a Giovanni, io comunque ci sono. Quindi io adesso condivido lo schermo. Vai a condividere, esatto. Condivido lo schermo. E vediamo, eccolo, lo vediamo, questo attesissimo, aumento di capitale, banca Montepaschi, ci sarà. Rido perché era atteso da tempo e non è il primo, quindi... Sì, diciamo che stupisce ogni giorno per quello che succede sui mercati, perché effettivamente dopo aver visto il teorico ieri, che tutto il giorno sono stato l'antiamonico per vedere la partenza e dopo l'accorpamento delle azioni, alla fine non ho visto nulla e oggi invece poi me lo trovo ancora a 30 euro, che è una cosa assolutamente sorprendente. Comunque andiamo a vedere i vari dettagli di questo video. Andiamo in ordine perché ho preparato un po' di cose anche per magari chi è proprio all'ABC. Assolutamente. L'unica cosa che ti chiedo prima di iniziare, volevo ricordare che gli aumenti di capitale con Directa hanno sempre una particolarità in più, perché? Perché con Directa potete fare delle cose che con altri broker, diciamo, non si possono fare. Quindi Directa ha un po' quest'anima dedicata agli aumenti di capitale. Non so se poi la vuoi spiegare rapidamente, Giovanni, perché anche tu di solito utilizzi Directa per gli aumenti di capitale. Sì, 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 sì. Il grosso sicuramente, perché Directa è efficientissima, soprattutto quando c'è la fase di diritti, secondo me, ancora di più. Perché prima, diciamo, ci sono tanti broker che dipende sempre dalla modalità di prestito di titoli e quant'altro, o dalla disponibilità del prestito di titoli. Però quando poi entra nel vivo l'aumento, succede che, per dire, io sono leggermente sciolto in Directa, cioè quelle poche che ho trovato. Sì. Poi ero riuscito a vendere delle altre, però per dire, con Fineco me le ho dovute chiudere a intervenire il discorso e quindi mi sono perso la possibilità di avere uno sciolto cosfico. Quindi ogni broker ha le sue regole. Diciamo che, probabilmente, Directa, anche per il fatto che io li faccio praticamente da vent'anni e passa con Directa, anche Directa si è evoluta sempre di più per andare incontro alle esigenze di gente magari che conosce assolutamente la tecnica di queste operazioni e quindi anche, non so, il permettere, non so, adesso, io parlo delle ultime novità, tipo permettere di tenere sciolti i diritti fino al penultimo giorno. Una volta si chiudevano il primo giorno dell'aumento. Non sembra, ma cambia di tanto. Cioè, per dire, su Saipen, diciamo che quasi un 30, 40, forse anche il 50% del mio guadagnamento è diverso. L'Italia sarebbe molto peggio di Saipen, però dopo ci sono sempre le mosse che fa o il Consorzio o Borsa Italiana. Quindi bisogna sempre mettere in cantiere che, non dico l'imprevisto, però le regole del gioco sono tante e sono sfumature che fanno una differenza enorme. Quindi, probabilmente, il fatto che, oggi per dire, mi ha chiamato anche finanza online, ma sono queste operazioni solitamente arrivando tutti da me. Ma perché? Perché praticamente dal 94 che ho fatto il primo aumento di capitale, quindi sono quasi 30 anni, li ho fatti praticamente tutti, e ho una conoscenza di come si svolgono, che ti dico, poi può capitare l'errore, ma l'hai capitato con Autogrill, perché l'Italia ho perso anche con Cattolica, ma parliamo di due aumenti di capitale in 30 anni. Cattolica non c'avevo niente da dire, cioè non mi potevo biasimare perché è stata una mossa di generali dalla sera al mattino e lì non ci posso fare niente. Se alla vigilia di un'assemblea straordinaria che viveva l'aumento di capitale ti arriva l'OPA, cioè è come se Montepaschia adesso fa l'aumento e il giorno prima di partire l'aumento ti salta fuori che un decreto se la compra, quando magari è dichiarato il contrario sino all'altro ieri, hai capito? Cioè, uno deve sempre pensare a cosa ti potrebbe accadere di peggio. Questo non vale per gli aumenti di capitale, vale per qualsiasi operazione di borsa. Tra l'altro, Giovanni, prima di iniziare, io mi permetto di mettere, vedo che su Kindle addirittura costa poco più di 4 euro, che c'è il libro degli aumenti di capitale, il tuo. No, lì c'è un ebook. In queste slide c'è la copertina del libro nuovo che è in tipografia. Ok, però nell'attesa chi vuole può prendere l'ebook a 4 euro e poco più, che insomma è uscito il primo febbraio. Secondo me, adesso non vorrei dire, adesso è una cosa un po' vecchiotta, secondo me lo diamo in omaggio a chi si registra il sito. Allora, fantastico. Molti, secondo me, ce l'hanno già. Ok, perfetto. Quindi, senza dover pagare su Amazon, secondo me lo si può avere direttamente. Allora, lasciamo il link solo per vederlo e mettiamo il link del sito di Giovanni, che è GB Investing. Molti di voi lo conoscono, ma lì anche c'è tutta una serie di materiale gratuito e di approfondimenti anche sugli aumenti di capitale. Come dice Giovanni, con ogni probabilità questo stesso libro è disponibile sul sito quando vi iscrivete in omaggio, quindi niente di meglio. Allora Giovanni, iniziamo con la presentazione. Allora, la presentazione è abbastanza semplice, nel senso, chiedo due miliardi e mezzo, è già deliberato, perché è stato deliberato dieci giorni fa, il 15 di settembre. Non si sa ancora le caratteristiche. Cioè, io ho pensato adesso che vale 30 euro. Allora, intanto bisogna sapere perché sono arrivato a questo calcolo. Questo è fattibile, basta che uno, se la società chiede due miliardi e mezzo e c'è un miliardo, adesso non c'è un miliardo di azioni, adesso ci sono 10 milioni di azioni sul mercato. È come dire, per ottenere questi due miliardi e mezzo deve chiedere 250 euro ogni azione presente sul mercato. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se le azioni le fa pagare 25 euro dovrebbe fare l'aumento 10 azioni nuove ogni una vecchia a 25, ma 25 è impossibile che lo faccia a 25 perché nessuno le pagherebbe, perché andrebbe subito sotto al prezzo della sottoscrizione. E quindi, come ha fatto Saipen, uno potrebbe pensare a un aumento fortemente diluitivo, tipo offrendo 250 azioni. Ogni azione che ne vale oggi circa 30 ha un euro e così otterrebbe i 2 miliardi e mezzo. Da questi dati poi uno può fare delle simulazioni. Intanto c'è da dire che il MEF, cioè lo Stato, ha il 64% del capitale, quindi di fatto su 1 miliardo e 6 siamo sicuri che verrà sottoscritto. Poi ci sono dei partner industriali che potrebbero sottoscrivere 300 mili di euro. In più c'è Mediobanca che parte dal Fonagos e lei è già dentro all'interno del consorzio, perché ancora non si capisce bene se daranno la conferma definitiva. Quindi uno potrebbe ipotizzare che magari a 2 miliardi circa ci arrivano, quindi al mercato ne chiedono solo 500 milioni. Mentre ad esempio Saipen ne chiedeva 2 miliardi di cui uno sottoscriveva quasi NECDP e quindi un miliardo di richiesto al mercato. E sappiamo tutti com'è finita, che 600 milioni sono andati nella pancia del consorzio di garanzia di Saipen. In questo caso probabilmente non ci sono quei rischi lì, ma c'è il rischio sempre che gli vada in pancia un 400-500 milioni al consorzio. Quindi il rischio di un optato è abbastanza forte. C'è da dire poi che a fronte del bisogno disperato che ha Montepaschi di ottenere l'accordo con AXA e Anima, è anche vero che AXA e Anima, che guadagnano mi sembra circa 100 milioni all'anno da questo accordo di banca assicurazione o per i fondi. Cioè AXA per l'accordo di banca assicurazione Anima per quanto riguarda i fondi. Chiaramente se loro mettono sul piatto 300 milioni ovviamente al prezzo, praticamente al prezzo di nottato, quindi pagherebbero l'azione chiaramente si disintera comunque. comunque loro rischierebbero di perdere anche, come abbiamo visto sai, per una sotto del 40% rispetto al prezzo dell'aumento, anche loro potrebbero perdere tranquillamente 120-150 milioni di questi 300. E quindi come contropartita loro vorranno sicuramente allungare l'accordo di banca assicurazione o l'accordo per l'accollocamento dei fondi. Allora, su questo non c'è niente di male, però se tu Montepaschi poi la vuoi privatizzare, la banca che compra Montepaschi se ha i suoi fondi, le sue assicurazioni e tutto, si trova a dover gestire un partner industriale che sicuramente vuole una specie di buona uscita o qualche cosa per perdere questo accordo. Quindi, da una parte Montepaschi ha bisogno di questi 300 milioni, dall'altra penalizzerebbero l'eventuale trattativa successiva. Quindi è chiaro che nel momento dei bisogni adesso ti farà andare bene probabilmente questa cosa qui, che però potrebbe poi far diventare Montepaschi meno appetitosa a eventuali compratori successivamente all'aumento di capitale. Quindi questa era giusto una puntualizzazione che secondo me pochi hanno pensato. Allora, questa è l'ipotesi. Allora, lo sconto sul TERP sarebbe lo sconto calcolato sul prezzo rettificato. Allora, mi spiego come ragiono io. Metto a zero il diritto, l'azione, supponiamo che fanno 250 azioni ogni una a un euro. Allora, se l'azione costa un euro e il diritto va a zero, l'azione piena vale un euro. Se io pago il diritto due e mezzo, l'azione mi costa un centesimo in più, perché devo fare due euro e mezzo diviso 100, scusa, diviso 250 e viene un centesimo. Quindi vedete che la leva del diritto è mostruosa. Quindi, se io pago il diritto 30 euro, l'azione mi costerebbe un euro e 12 e l'azione piena è più o meno ai prezzi di adesso. Quindi capite bene che se l'azione arrivasse il venerdì per un aumento a 31, cosa che dubito, e facesse un aumento di capitale come la mia ipotesi, l'azione varrebbe 1,12 rettificata. Quindi lo sconto sul TERP, perché il TERP sarebbe 1,12, quindi lo sconto, cioè le faccio pagare 1, le azioni rettificate valgono 1,12, lo sconto sarebbe di poco più del 10% o 11%. Se anche faccio 0,50 è talmente diluitivo che cambia poco, perché l'azione avrebbe 56 centesimi e lo sconto siamo sempre a 6 centesimi su 56, quindi lo sconto aumenta, ma di pochissimo. E quindi è matematicamente impossibile fare uno sconto, come siamo abituati a vedere, del 30-35% sul TERP. È matematicamente impossibile, perché Montepaschi chiede troppi soldi rispetto alla capitalizzazione. Quindi è un aumento che sarà comunque sempre estremamente diluitivo, perché se fosse così il fattore K, che si calcola dividendo 0,56 per 30, capite bene che il fattore K sarebbe in questo caso circa 1,60 su 100, quindi considerate che l'aumento è considerato iperdiluitivo se il fattore K è sotto a 30. In questo caso siamo sotto a 2, quindi è iperdiluitivo, come ne abbiamo visti pochi. Abbiamo visto il credito valtilinese e tre di più diluitivi di questo. Quindi lo sconto sul TERP, l'abbiamo detto, non potrà mai essere del 30%. Quindi è inevitabile. Uno, l'azzeramento del diritto. Due, che l'inoptato sarà consistente, come con Saip. Il prezzo del titolo sotto a qualsiasi prezzo decide di fare l'aumento. Quindi di fatto è come dire che il valore attuale si azzera. Cioè chi ha le azioni oggi in mano è un incosciente, uno che non ha capito come funziona un aumento di capitale. È brutto dirlo, ma con Saip ho anche litigato con professionisti anche abbastanza affermati. è una materia molto tecnica, molto difficile, però se uno non la conosce è meglio se evita di dire che è l'azione che fa il prezzo del diritto. No, è il diritto che governa il prezzo. Cioè negli aumenti di capitale è il prezzo del diritto che va tenuto conto. Perché con Saip l'azione è andata a 4 euro, se il diritto doveva valere come con l'azione a 4 euro, il diritto sarebbe dovuto valere una cifra spropositata. Invece il diritto stava andando lentamente vicino a 0, a dimostrazione che a 0 pagare le azioni 1 euro e 0,3. Quindi non avrà senso comprare l'azione a 3, 4 euro. Cioè a Montepaschi, pensate una cosa, se ci sono 10 milioni di azioni a 30 euro, se il diritto vale quasi 30 euro e l'azione vale 0,5 o 1 euro, praticamente tutto il flottante fa 10 milioni di euro o 5 milioni di euro se al momento lo fanno a 0,5. Quindi è un attimo, anche un singolo trader come potrei essere io potrei far fare all'azione a Montepaschi più 50, più 100%, perché considerato, supponiamo anche a 1 euro, 1 milione di euro cioè 10 milioni di azioni sono 10 milioni di euro, il 64% ce l'ha allo Stato, i 3 milioni e 600 mila azioni che restano sul mercato, a parte che sono probabilmente di gente che ormai li ha messe nel deposito titoli per i nipoti, per i nipoti e quant'altro, perché le hanno dei prezzi fogli e quindi non le guardano neanche più. Ma materialmente, con qualche centinaia di mea di euro probabilmente il titolo lo fai raddoppiare o triplicare. E' chiaro, lo puoi fare se nessuno può sortare il titolo. Quindi in assenza di short, chiaramente il prezzo si disallineerà rispetto al prezzo del diritto, ma è il prezzo del diritto che fa il prezzo dell'azione, perché alla fine che senso ha comprare le Montepaschi a 3 euro se col diritto la puoi comprare a 1 euro o a 1 euro 0,2? Nessuno, non ha assolutamente senso. E quindi la prima cosa da fare è assolutamente conoscere queste due o tre regolette per evitare di fare dati. Se uno non conosce come agisce il prezzo degli strumenti finanziari sugli nomi di capitale, è meglio se ne sta fuori, cioè non fa nulla. E' chiaro che se un azionista dovrebbe uscire... Oggi è l'ultima occasione per uscire, cioè è incredibile che oggi non perda niente. Vuol dire che uno non ha visto l'asta di ieri, che addirittura il teorico era a 15 euro. Oggi vederla a 30 euro sembra impossibile. Ma questa è solo la legge della domanda all'offerta. Se tu inibisci a tutti di shortare il titolo perché materialmente l'hai portato sulla piattaforma Millennium di Borsa Italiana, di fatto è impossibile materialmente andare short e quindi oggi probabilmente ci sono un sacco di incoscienti che non sanno cosa stanno comprando e quindi hanno comprato garantendosi un meno 99%. Quindi ognuno è libero di fare quello che vuole, che ha i propri soldi. Io posso solo dire di stare attenti. Se avete la fortuna di ascoltarvi, almeno evitate di fare delle stupidate. Quindi questo è il mio consiglio spassionato. So esattamente quello che dico. L'unico motivo per cui non dovrebbe scendere è che salti l'aumento di capitale. Però se salta l'aumento di capitale, considerate che l'aumento di capitale serve anche per fare il piano esodi entro a metà novembre, perché a fine novembre scade la manovra del governo che permette di avere degli incentivi da parte del governo a fondo perduto. Quindi se Montepaschi non lo fa, perde un'occasione. Perché se ha detto che due miliardi e mezzo, un terzo di questi, servono per il piano esodi e quindi spende sette, ottocento milioni per questo piano e probabilmente magari ne prende altre tanti dallo Stato, cioè è un'occasione che non è irripetibile. Quindi la Meloni può dire quello che vuole, ma il Montepaschi va per la sua strada perché non può perdere un ulteriore contributo pubblico per il suo risanamento. Quindi secondo me dopo, quando c'è di mezzo la politica può succedere di tutto, però secondo me l'aumento partirà e anche a breve, brevissimo. Secondo me proprio queste manovre di portarlo su una piattaforma per cui non si può shortare, cioè stanno difendendo con le unghie per cercare di farlo partire al più presto, partendo da un prezzo possibilmente più alto possibile. Ecco, questi sono le slide. Adesso vi dirò alcune cose che l'ho preso proprio da... Allora, per le slide basta avere un'email, adesso un quattro stupidate che ho detto, sul fattore K e quant'altro. Questo ovviamente per chi vuole seguire con me l'Aumento di Capitale abbiamo tutti i servizi ad hoc, quindi può chiamare o la Tutor Academy o può scrivere un'email a InfoGB Investing. Questo è il libro che ho mandato in stampa e questo è l'indice. Capite bene che è la... Io penso che sia il libro migliore per finire la propria carriera, sono a bellezza di 420 pagine. Penso che sia proprio un manuale quasi da corso universitario, che non esiste un corso del genere. E queste, le prime 100 pagine, diciamo, sono la parte didattica. Sfogliando, chiaramente è diverso il fatto che tu sei un risparmiatore, uno speculatore investitore, perché chiaramente c'è un approccio diverso, perché Montepaschia, attenzione, riguarda tantissime persone. Non pensiamo solo a noi che speculiamo, pensiamo anche ai risparmiatori che ce l'hanno comprato e magari dieci anni fa e che oggi già sono sotto del 99,5% e che perderanno un altro 99,5%. Il problema è quello lì. Ci sono le informazioni che bisogna sapere per arrivare preparati e bisogna conoscere cosa è il diritto d'ozione. Cosa succede al prezzo dell'azione nel weekend con questi fattori K? Perché se io ho 100 azioni a 30 euro e supponiamo che il fattore K sia 1, io mi troverò che poi avrò, non so, 29 euro che sarà il valore del diritto e un euro che sarà il valore delle azioni. Cioè l'equivalenza finanziaria mi dice che io da 100 azioni il lunedì quando parte l'aumento avrò 100 diritti e 100 azioni. La somma delle parti dovrebbe fare 30 euro. In realtà non è così perché anche se l'azione da 1 la portano a 3, basta che il diritto da 30 vada a 15 che non posso guarnare perché mi trovo 15 più 3 è 18. Quindi da 30 a 18 ho perso già un 40% ed è magari solo il primo giorno dell'aumento di capitale. Questo è quello che è successo con SICA. Quindi il fattore di rettifica l'abbiamo visto prima, il rapporto di esercizio è quello che vi ho detto prima, cioè tipo 250 azioni ogni una oppure 500 azioni ogni una. In base al rapporto di esercizio si può capire qual è il fattore K e quindi se l'effetto diluitivo è tale che il fattore K è sotto a 30, scatta il modello rolling. Poi dopo c'è il discorso dei presto titoli, quando si può creare una situazione di arbitraggio. Come agisce il fattore K sui derivati? Perché attenzione, nel caso di Cypem c'erano i Turbo Short, i Covered Warren, le opzioni ISO Alpha, c'erano un sacco di strumenti che io ho cavalcato tutti, cioè io ho tutti gli strumenti che c'erano per poter andare in basso e utilizzati. Su Monte Paschi purtroppo non c'è questa ricca offerta sul mercato che c'è stata su Cypem. Poi, quindi la prima parte sono tutte queste regolette, la seconda parte ci sono tutto quello che bisogna sapere step by step, cioè dalle voci di corridoio. Infatti io ad esempio a Montepaschi ho uno short minimo di azioni perché ho dormito, perché vi assicuro che a giugno c'erano anche 300.000 azioni su diretta short e io non me le sono accaparate perché ero talmente preso da Cypem che è come dire non ho pensato già a pianificare Montepaschi, mentre invece sono dei miei abbonati che hanno una bellissima posizione short su Montepaschi ma addirittura a 60-70 centesimi che sarebbero i 60-70 euro di adesso, quindi sono già in guadagno del 50%. Io li ho fatto una stupidata ma perché? Perché ero in piena adrenalina da Cypem, quindi il mio pensiero tutti i giorni era solo comprare su Cypem gli strumenti che ancora mi permettevano di andare short e vi assicuro che avevo già tipo un milione e mezzo di azioni short, quindi su Cypem ho fatto l'operazione della vita, nel senso che non ho mai fatto un'operazione così straordinaria come Cypem. Montepaschi probabilmente se fossi partito a giugno potevo fare un'operazione similare, magari non come importo di guadagno ma comunque un'operazione da grandissima soddisfazione. Quindi quando già ci sono le voci di corridoio uno deve cominciare a pensare perché dopo se arriva lungo, quando c'è già la certezza di operazione, solitamente non si trova più il prestito. Facciamo un esempio, non so, se Montepaschi parte il 10 di ottobre, la lettera della banca agli azionisti non può essere spedita prima di venerdì. Venerdì sera, 7 ottobre, supponiamo che parta il 10. Le banche fanno partire le lettere se uno ha le azioni, quindi se uno le ha vendute prima del 7 non è azionista a Montepaschi, quindi non avrà i diritti per partecipare all'aumento di capitale. Questa lettera se viene spedita anche sabato mattina, al cliente che ha le Montepaschi e che non sa neanche che c'è l'aumento di capitale, gli arriverà dopo una settimana. Quindi quando ormai il diritto vale quasi niente e quindi il povero azionista, quello che diciamo non è informato, quando riceve la lettera della banca, non ha più niente da fare, può anche chiamarmi ma ha già disintegrato quel poco che gli è rimasto. Quindi il mio consiglio è quando uno ha un titolo in portafoglio, che può essere anche la Telecom, tutti i titoli che possono un domani chiedere soldi al mercato, uno dovrebbe sempre digitare su Google, non so, aumento di capitale Telecom, perché metti caso, cioè sui titoli che uno ha in portafoglio, dove deve essere informato, perché se arrivano operazioni straordinarie, solitamente sono dolori, soprattutto se parliamo di un titolo debolo, è chiaro che se arrivano operazioni straordinarie, non so, della luxottica, perché si compra la Saffilo e magari dice faccio un aumento di capitale da 300 milioni e i 300 milioni sulla capitale luxottica non sono niente, quindi a parte che non avrebbe neanche bisogno probabilmente per comprare la Saffilo. Però se uno fa un'operazione per crescere, per investire tutto è una cosa, ma se uno fa un'operazione per sanare dei debiti, è meglio starcela larga, quindi è meglio non averla in portafoglio. Quindi vedete l'importanza del broker, l'eventuale accorpamento azioni, che è un segnale enorme che l'aumento di capitale si avvicina. Pensate che Cypren è stata la prima volta che ho visto due accorpamenti nel giro di un mese, una cosa veramente allucinante. Con Cypren ne ho fatte di tutti i colori. Con Montepaschi hanno già fatto l'accorpamento, poi chiaramente l'ultimo giorno della partenza, prima della partenza che di solito è il venerdì, il delirio del weekend, perché purtroppo su aumento di capitale comunicato a Montepaschi ho ricevuto delle centinaia di mail nel weekend, perché la gente magari legge la notizia, digita su Google aumento di capitale a Montepaschi, casualmente, nonostante non faccia l'attività di SEO o quant'altro, risulto io, nel senso che trattando aumento di capitale ormai da vent'anni, su Google sono indicizzato e quindi probabilmente anche il dignaro risparmiatore che va su Google mi trova, però mi trova sempre quando è troppo tardi, perché chiaramente questa sua richiesta disperata su Google arriva quando probabilmente è già passato anche il venerdì che è l'ultimo giorno, magari per venderlo, ex aumento di capitale. Quindi il lunedì mattina chiaramente c'è da notare come apre diritto e azione e poi la negoziazione del diritto, quando sottoscrivere, come funziona, quanti giorni di tempo in te hai per sottoscrivere diritto, quella parte di aumento di capitale che non viene sottoscritta, si dice che va in optata e a quel punto dopo qualche giorno o a volte anche settimana, ad esempio l'Andi Renzo, l'asta di in optato l'ha fatta dopo più di un mese, è lasciato passato tutto il mese di agosto per poi fare l'asta di in optato. Quindi anche conoscere questi meccanismi, quando hai l'asta di in optato, sono tutte occasioni incredibili per poter fare magari dei piccoli guadagni aggiuntivi, ma ad esempio con l'Andi Renzo io l'ho sortata di nuovo perché sapevo che poi quando sarebbe arrivata l'asta di in optato gli avrei potuto comprare sempre a 53 centesimi e si potevano sortare a 56-56. Quindi c'è tutto un insieme di tutto quello che sono le regole da sapere e in più dopo, che è quello che fa assolutamente la differenza, è l'esperienza. Cioè tutti gli esempi della storia degli ultimi vent'anni, addirittura c'è il GIFI 94, Montesio 94, alcuni sono stati arbitraggi fantastici come il film Meccanica, ora Leonardo. Ci sono state operazioni anche sugli aumenti esteri. Quest'anno il France ha dato un arbitraggio del 10% senza rischi, Saipem l'ho aspettato a pubblicare il libro per mettere dentro anche Saipem nel 2022, qui c'è la storia e dalla storia si può capire anche un possibile aumento di capitale futuro perché spesso ha delle analogie col passato. Quindi questo lo vedrò per qualche giorno, la prima bozza di stampa e ne vado molto orgoglioso del lavoro che è venuto fuori. Poi chiaramente è finito con una ciliegina sulla torta perché pubblicavo un libro dopo un'operazione come quella di Saipem, capite bene che è una soddisfazione enorme, anche per la felicità che ho dato a tutti quelli che mi hanno seguito nell'operazione. Io Stefano, se hai delle domande. Ce ne sono davvero tante Giovanni, te ne riassumo un po'. Come sempre poi ricordiamo che si possono andare a fare domande a Giovanni tramite il sito dove ci sono tutti i contatti e quant'altro. Le domande più frequenti sono come per esempio quella di Mauro, dice come possiamo sfruttare con qualche strumento tale situazione e di nuovo domande simili ce ne sono tante, a parte i vari complimenti e quant'altro. Per esempio Giuseppe dice non ho ancora in mente il tipo di strumento che si può utilizzare, non ho ben capito, per poter approfittare del... Quindi magari se puoi spiegare meglio il tema per il sito tutto. Ma allora su Montepaschi ci sono le opzioni su Alfa ma purtroppo Borsa Italiana ha lasciato il multiplo, era 100 azioni quando valeva 30 centesimi. Quindi un'opzione, governi 20 euro di azioni, 30 euro di azioni, se compri lo Strike 20, oggi ho provato a comprare lo Strike 20 per vedere se ne ha cambiato il multiplo, allora se metto un ordine, lo Strike 20 compro a 2 euro, supponiamo, pago 2 euro più la commissione che magari è 3 euro. A quel punto uno dice, pago il premio 2 e ne spendo 3 di commissione. Cioè è folle. Io speravo che almeno le opzioni, a parte che poi non c'è denaro lettera, è inutile fare questo discorso. Però se anche ci fosse denaro lettera, la commissione è il doppio del valore dell'opzione. Non l'ho mai visto neanche questo. Pensate che l'otto di Montepaschi, adesso che le hanno corpate, è un'azione. Cioè tu con un'opzione compri un appunto su un'azione Montepaschi. Cioè se pensate che è una cosa, cioè che anche Borsa Italiana a volte è discutibile come agisce. Perché io speravo che mettesse, non so, 100 azioni o 50 azioni, 50 azioni sono 1.500 euro di controvalore. Se pensate che su Sai, come ho fatto i soldi, che il multiplo era 21 azioni, 21 azioni però per 50 euro ha circa 1.000 euro il nozionale dell'opzione. Quindi con Montepaschi non ci sono come la ruova, non ci sono certificati di investimento, non ci sono turbo short, non c'è niente. Quindi bisogna armarsi di pazienza o cercare presto titoli. Sì esatto, non c'è più, però si può continuare a cercare. Si può cercare perché non è detto che quando, ad esempio, una mia cliente ha trovato 3.000 Saipem il giorno dell'accorpamento di Saipem, perché probabilmente il titolo ha perso il quinto, qualcuno su diretta magari si è chiuso, ingolosito dal guadagno e ha liberato le azioni e le ha prese il più veloce. Esattamente quello che volevo sottolineare. Quindi voi continuate a monitorare perché si possono liberare delle azioni. Perché vi assicuro che, ragazzi, ma 3.000 azioni vi assicuro che sono soldi. Alla fine, io so che mi ha scritto perché tra l'altro la sua testimonianza è all'interno del libro, quindi la ringrazio. E lei mi ha detto che la cosa più difficile è stata tenere botta, come dicevo io, perché io dicevo che non si rompono i diritti, questa va più di più. E lei però non ce l'ha fatta perché ha detto, Giovanni, ho guadagnato più di 100.000 euro, ho permesso 4 anni di stipendio e non sapeva come fare a non chiudere l'operazione perché la bocina dentro di Saipem diceva che è il guadagno che è il più alto della mia storia. E quindi siamo tutti così. È normale pensare di portare a casa un guadagno quando è consistente. Io, guarda a caso, i due guadagni più grossi che ho fatto sui momenti di capitale, uno risale di 2 al 2004. Però lì avevo la matematica che mi diceva che il diritto doveva valere molto di più. E lì ho tenuto botta e quindi ho portato a casa. Raddoppiavo i soldi tutti i giorni. Ma pensate, l'effetto esponenziale del raddoppiato di Giorgio. Erano 18.000, giorno dopo 36, poi 72, poi 144, poi 300. Sì, sì, esponenziale. Non è facile tenere botta a livello emotivo. Con Saipem io ho detto che avevo tutta questa posizione short, non ne ho mai fatto mistero anche sui social. Certo. Qualcuno mi ha guardato del pazzo. Però alla fine io l'ho fatto perché, dico la verità, anche Luana diceva dai lo metti nel libro. Quindi per fare una performance più alta di quella che avevo fatto nel 2004 perché volevo battere il mio record. Quindi un po' la molla è stata quella. Poi dopo gli eventi sono stati tali che mi hanno convinto che Saipem si sarebbe letteralmente disintegrata. Avevo già una posizione molto forte short, ma non pensavo mai che, non so, shorti un milione e mezzo di euro e nei guadagni un milione e mezzo. Era quasi impossibile. In realtà è successo proprio quello. Però, cioè non è perché guadagnavo tanto, le ho chiuse perché guadagnavo tanto. Addirittura io il primo giorno che ti dava la possibilità di vendere le azioni rivenienti dai diritti, quindi ormai le mie azioni avevano fatto il loro dovere, perché chiaramente da 50 le ho portate a un euro. Certo. Io ne ho vendute 800 mila sul meno 15 di quel giorno lì a 0,90, 0,90. Certo. Quindi per dire, ho quasi ricalcato la mano che in Toria uno poteva dire, sì ma rischi che poi perdi quello che hai guadagnato. No, ero convintissimo che visto che l'inoptato era tale e si sapeva che le banche appena potevano le facevano fuori, per me era un alto calcio di riguardo a porta vuota. Quindi capite la differenza tra un trader professionista e uno che magari... No, ma soprattutto arrivare preparati con un piano in testa. Perché se tu sai il piano e addirittura non ti devi mai far condizionare dal prezzo di carico. Questo vale soprattutto quando perdi, no? Ma anche quando guadagni, perché il rischio è quello che tu porti a casa un guadagno molto più piccolo di quello che si potrebbe realizzare. Ma se tu pensi che Saipen vada a 50 centesimi, non vedo perché devi chiuderla a un euro o a 90 centesimi. Oppure non sortarle a 90 come hai fatto tu, certo. Cioè, io dopo le ho sortate a 90 perché di fatto la mia posizione su Saipen si era talmente sgonfiata perché, pensate bene, che se io avevo un milione e mezzo di Saipen alla fine ne avevo in realtà tipo 25.000 rettificate. Ma 25.000 azioni, una cosa è quando le hai vendute che valgono 50 euro, ma quando valgono meno di un euro, la mia posizione era di 25.000 euro. Di fatto anche se va giù posso guadagnare il 40% di 25.000 euro, altri 10.000 euro. Probabilmente quei 10.000 euro non mi ingolosivano più di tanto, però ormai avevo fatto un guadagno straordinario. E quindi io cosa ho pensato? Secondo me va giù ancora, sciolto, sempre un controvalore. La riattivazione del prezio titoli, che poi è quello che dicevamo all'inizio. E quindi Montepaschi potrebbe fornire una situazione del genere, perché magari poi c'è molta gente che le ha comprate quando le azioni si sono mezza zerate e tu quindi hai di nuovo la possibilità di fare il prezio titolo. Ma queste considerazioni non è detto che succeda come Saipen. Non è detto, quindi attenzione. Va elaborato sulla base delle notizie che via via vengono sul mercato. Infatti Giovanni, io chiuderei dando come già da questa slide i tuoi contatti, perché è molto importante poi seguire l'evoluzione e le varie notizie che si susseguono. Come detto, tenere un occhio sulla disponibilità eventuale per il prezio titoli, che può avvenire in qualsiasi momento, perché ci sono sempre chiusure di posizione e quant'altro, le riattivazioni varie. E mi raccomando, su GV Investing ci sono tutte le informazioni. E tra l'altro ci chiedevano anche, e chiudiamo con questa domanda, più o meno quando uscirà il libro, Giovanni, sugli aumenti di capitale? Allora, mi stanno revisionando un po' tutto il lavoro che mi fa il tipografo, quindi l'impaginazione e quant'altro, essendo più di 400 pagine, che ormai ci metterà una settimana. Certo. E poi andrà in stampa, quindi magari io ho una bozza di stampa quando sono a Roma, all'Investing Roma. All'Investing Roma ci vediamo. Però poi il pezzo cartaceo che mi arriverà sarà nella settimana successiva. Ok, quindi. probabilmente farò una proposta per chi lo vuole prenotare sul mio sito. Ho una proposta solo in libro, oppure anche con i webinar di Montepaschi operativi. Quindi chi volesse già comprarlo, lo metterò magari a un prezzo scontato per via che lo spedisco io. Poi dopo io lo spedisco ad Amazon. Quindi inizialmente magari quando li vado a prendere, prima di spedire le Amazon, se qualcuno è interessato che l'ha già preso, glielo spedisco io. Ottimo. E quindi dopo troverete le informazioni sul mio sito. Quindi potete iscrivere anche per questo a Giovanni ed eventualmente ci fasiamo su metà ottobre, diciamo, più o meno. Ok. Benissimo. Sì, l'appuntamento per chi ci sarà sarà a Roma. Io penso che noi ci vedremo sicuramente. Sì, sì, sì. Investi in Roma il 7. Chi può venire fisicamente saremo lì. Insieme a te ci sarà Davide. E poi c'è anche una parte che è in streaming per chi non può venire. Quindi sicuramente il primo grosso appuntamento è quello di Roma. Il giorno 7, venerdì 7 ottobre. Adesso non so se si è alto l'Expo quest'anno a ottobre perché l'hanno fatto a maggio. Eh, non lo so neanch'io. Non lo so neanch'io. Magari hai cambiato le date. Comunque il primo appuntamento è a Roma e sicuramente con grande piacere ci vedremo lì. Vi ricordo che questo webinar lo potete rivedere subito in versione registrata al medesimo link e ancora segnatevi è fuori da un po' tutto il discorso con atti con Giovanni sia per il libro sia per domande eventuali sugli aumenti di capitale e su questo che è da seguire perché l'evoluzione è molto importante come abbiamo sottolineato più volte. Io ti ringrazio Giovanni allora sì ci diamo appuntamento. Probabilmente a Roma secondo me le previsioni sono che parta il 10 di ottobre che è lunedì dopo Roma. Ok. Il venerdì del delirio potrebbe essere proprio quando siamo a Roma. Quando siamo a Roma lo viviamo in diretta. Perfetto. Quindi di nuovo grazie continuate a seguire appunto Giovanni. Qua ci sono tutti i contatti e ci sentiamo prestissimo. Grazie Giovanni a presto. Grazie a voi come sempre.